Voi fate private banking, cioè chi ha un patrimonio viene da voi, un certo patrimonio viene da voi. Il meccanismo per cui questo patrimonio arriva da voi e poi va a finire nell'economia reale attraverso la catena del risparmio e dell'investimento, come funziona? Si ferma, non si ferma? È investito veramente in Italia? Questa catena funziona nel nostro paese? Allora, diciamo che potrebbe funzionare molto meglio. Purtroppo la finanziarizzazione del mercato italiano è forse una delle più basse ed è dovuto a una difficoltà oggettiva di indirizzare i risparmi privati nell'economia. Una parte si è fatta con i peer, si è cercato in qualche modo di sollecitare gli investimenti privati verso anche il non quotato e questo sicuramente ha aiutato nella quotazione di alcune piccole realtà. Le ha un po' gonfiate alcune? Diciamo che nella mia testa ci sono tre cose da fare. Per continuare su quel percorso. Il primo bisogna in qualche modo dare l'accesso a investimenti anche non liquidi per la clientela che ha pochi soldi, perché oggi è un tema regolamentare molto forte per cui perché è complesso, perché è liquido, non ci si possono mettere i soldi. La seconda bisogna essere incentivati a metterli. Oggi se pensiamo ai peer, la proposizione è guadagnerai dei soldi e pagherai meno tasse. L'Italia non ha una storia di grandissime performance dei mercati per cui io sono estremamente convinto e motivato di metterci i soldi. Se la proposizione fosse mettici i soldi, se per caso le cose non vanno in una direzione giusta, quello che tu hai perso lo puoi recuperare con le tasse e ci metti un paracadute, io personalmente ci li metto. A quel punto ti manca l'ultimo pezzettino, quindi i regolatori ti devono dire ci li puoi mettere i soldi, ci sono delle trende a livello europeo molto forti in questo. Il governo deve dire, dato una somma di soldi che destino a questo tipo di incentivazione li metto più per proteggere che per risparmiare soldi se guadagno, e il terzo passaggio è il nostro, degli operatori, che bisogna in qualche modo investire nella finanziarizzazione. Quindi ci sono, per esempio, pochissime realtà, pochissime piattaforme che oggi danno liquidità e permettono di emettere bond oppure di raccogliere capitale per le piccole e medie imprese. Però questo è un business che si può fare. Ci sono tantissime persone, grandissime competenze in Italia per fare quest'ultima parte. Il blocco è, da un punto di vista istituzionale e regolamentare, l'accessibilità e dall'altra l'incentivo per la clientela. Qualunque esperienza digitale, sociale, tecnologica di Italy deve partire dal negozio. Il negozio è l'epicentro dell'esperienza di Italy, ovunque noi siamo al mondo. In tante situazioni io posso chiedere a un consumatore, mi racconti Italy? Ti raccontano il negozio. Per cui qualunque cosa noi immaginiamo di innovazione digitale, sociale... Si racconta la fisicità del negozio così tanto per voi, nel mondo di Amazon... È incredibilmente forte, ma il mondo di Amazon, che succede? Compra Whole Foods. Certo. Alibaba, cosa fa in Cina? Apre più di 100 supermercati. Fisici. Fisici. In cui tu puoi fare la spesa solo se sei registrato su Alibaba. Per cui in questo momento, credo, in questo panico positivo, credo che ci siano tutta una serie anche di frasi fatte dell'innovazione del domani un po' da smontare. Perché anche questi mostri, sacri e non sacri, stanno venendo a pace con la realtà, per cui il mondo fisico è importante, le relazioni umane sono importanti. E allora loro stanno capendo che mettere su un'iniziativa imprenditoriale, alimentare. Perché alimentare? Perché il retail con la massima frequenza e lo scontrino più basso, gli consente di attrarre una quantità di persone assai maggiore rispetto al passato.